buongiorno ragazzi state lontani state lontani da chi piange miseria e poi si va a divertire chi piange miseria con voi e poi si va a divertire con gli altri state lontani questo non è una fecciaglia a nessuno cominciate a dire eh ma che ce l'hai con me ce l'hai con me parlo in generale parlo in generale perché c'è gente veramente che ha scassato la minchia e piange e piange si sembra addosso e a fine mese non ci arriva i soldi non ci stanno come fanno le altre persone come fa questo come fa quell'altro i soldi non ci arrivi sono pochi soldi con te fanno sempre le mosi fanno sconti di centesimi conti negli euro poi li vedi le migliori località turistica per se già per leggiare eccetera eccetera vuol dire che i soldi a cazzi vostri li tenete però quando si tratta di vedere il sottoscritto piangere miseria secciate il sottoscritto perché lo seccate in che senso vuol dire che a me proprio mi sono asciugato a me le palle così ma due palle tante a me siete coerenti piangere miseria non andate a divertirvi giustamente altrimenti se potete divertirvi fare andare solo all'età di lusso e andare a divertire evidentemente c'hai dei soldi quindi non venite a piangere al sottoscritto a dire non ci stanno i soldi non ci stanno i soldi e andate a raffanculo direttamente papale papale oggi sono abbastanza nervoso potete averci con chiunque oggi ce l'ho come con tutti perché il sottoscritto si è rotto il cazzo di essere preso per il culo per esempio a volte mi trattano come un coglione a me a me questa cosa mi dà un fastidio orrendo perché preferisco più una sincera verità piuttosto che una mala bugia anche no guarda una mala verità piuttosto che una sincera bugia comunque se capisci che la bugia a me non mi piace mi piace la sincerità schiettezza anche se va male quello è invece la gente ti piace poco per il culo ti pensa che tu sei scemo sei fesso e ci caschi ma capite che uno si sta anche zitto per l'educazione per un'altra mente esploderebbe e succederebbe mille una notte questo in generale non è un discorso non ne riferito a nessuno in particolare in generale perché se è tutto stesso alla fine ragazzi siete tutti uguali uno più uno meno non cambiate proprio piccelillo rosse donne uomini non cambiate proprio se è tutto stesso grazie a tutti